Si chiama Villa Girasole, i veronesi la conoscono come Casa Girevole ed è l'opera ambiziosa costruita dall'ingegnere Angelo Invernizi tra il 1929 e il 1935 a Marcellise, nelle colline della provincia di Verona. A questo gioiello del razionalismo e dell'arte deco che fino agli anni 60 si poteva muovere in senso orario e anti-orario, è dedicata alla mostra La Poetica della Macchina Villa Girasole a Marcellise, un'iniziativa promossa dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia in collaborazione con la rivista di architettura e cultura del progetto AV Architetti a Verona. Pensate che qui a Verona non era mai stata fatta una mostra su Villa Girasole, mentre all'estero tantissime mostre, quindi è un gioiello, un gioiello veronese che meritava veramente di essere raccontato. Questa sarà la prima, infatti, importante mostra della nostra rassegna, che è la quarta edizione di Open Ingegneri Aperti della Città. Un'iniziativa particolare, appunto. Cosa raccontiamo attraverso, guardando questi pannelli, che cosa impariamo di questo gioiello che i veronesi conoscono poco? Impariamo che già negli anni 30 un ingegnere, ingegnere Angelo Invernizi, aveva questa idea spettacolare di far girare una casa, quindi questa casa che poteva avere più visioni attraverso le sue finestre. È molto bello che sia stata fatta qui questa mostra perché si specchia praticamente su un altro elemento girevole, che è quello degli ex magazzini generali del magazzino della Rotonda, che presto verrà restaurata. Qui vedete, praticamente nella mostra, viene studiata questo gioiello architettonico anche con nuove tecnologie, quindi con render, digitalizzazione di tutti i disegni e anche con lo studio del BIM, che è una nuova tecnologia per studiare anche la parte impiantistica, la parte tecnologica e termica. La mostra, oltre a raccontare il percorso culturale e sociale che permise la nascita di progetti come quello di Villa Girevole, ricostruisce la casa meridiana dell'ingegnere Invernizi attraverso l'utilizzo dei nuovi sistemi digitali, in modo da far comprendere, senza ombra di dubbio, la possibilità di ridare il lustro a quest'opera, simbolo dell'ingegno umano e della poetica della macchina, così come si intitola la mostra, che rimarrà aperta nella nuova sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona sino al 7 aprile prossimo. Anche le case del passato e quindi anche la storia può essere studiata attraverso le nuove tecnologie e le innovazioni per avere più elementi e anche per magari pensare come utilizzare questa villa in modo diverso, adesso che chiaramente non avrà probabilmente più il suo uso residenziale.